Musica Salve cittadini, signor Novaico, oggi siamo a Procchio, spiaggia che si trova nel territorio comunale di Marciana, qui all'isola d'Elba. Il nome della spiaggia, cittadini, deriva dal latino procidus, che significa basso pianeggiante. Località, cittadini, già frequentata ai tempi del Paleolitico ed era caratterizzata, pensate voi, da uno stagno. Nel 1799, cittadini, durante gli sconti tra i soldati elbani e i soldati francesi che stavano occupando l'isola, avvenne un sanguinoso assalto, noto come la Battaglia di Procchio. È stato un caldo venerdì pomeriggio, cittadini, e nonostante sia fine settembre, c'è ancora parecchia gente qui in spiaggia. Guardate anche l'acqua, com'è limpida. Poi si può vedere anche, più in fondo, qualcuno che pratica la vela. Questa spiaggia, cittadini, fu tristemente ricordata per l'Icidio di Procchio nel 1943, durante l'occupazione tedesca. Questa spiaggia, cittadini, è lunga poco meno di un chilometro ed è racchiusa tra Punta Agnone e La Guardiola. Questa spiaggia ha anche delle strutture quali ristoranti e pizzerie, una qua e l'altra più avanti. L'acqua non è neanche tanto fredda e il panorama con il tramonto, cittadini, ci regala qualcosa di veramente unico. Saluti da Leobike.